la corrente era una rete di increspature leggere e trasparenti con in mezzo l'acqua che andava ogni tanto c'era come un batter d'ali d'argento a fior d'acqua il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a zig zag c'è pieno di trote disse uno degli uomini se buttiamo dentro una bomba vengono tutte a galla pancia all'aria disse l'altro si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello allora s'avanzò il ragazzo che li stava a guardare un ragazzotto montanaro con la faccia a mela mi dai disse e prese il fucile a uno di quegli uomini cosa vuole questo disse l'uomo e voleva togliergli il fucile ma il ragazzo puntava l'arma sull'acqua come cercando un bersaglio se spari in acqua spaventi i pesci e nient'altro voleva dire l'uomo ma non finì neanche era affiorata una trota con un guizzo e il ragazzo li aveva sparato una botta addosso come l'aspettasse proprio lì ora la trota galleggiava con la pancia bianca ribio dissero gli uomini il ragazzo ricaricò l'arma e la girò intorno l'aria era tersa e tesa si distinguevano gli aghi sui pini dell'altra riva e la rete d'acqua della corrente una increspatura saettò alla superficie un'altra trota sparò ora galleggiava morta gli uomini guardavano un po la trota un po lui questo spara bene dissero il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria era strano a pensarci essere circondati così d'aria separati da metri d'aria dalle altre cose se puntava il fucile invece l'aria era una linea diritta ed invisibile tesa dalla bocca del fucile alla cosa al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sembravano ferme a schiacciare il grilletto l'aria restava come prima trasparente e vuota ma lassù all'altro capo della linea il falchetto chiudeva le ali e cadeva come una pietra dall'otturatore aperto usciva un buono dovere di polvere si fece dare altre cartucce erano in tanti ormai a guardarlo dietro di lui in riva al fiumicello le pigne in cima agli alberi dell'altra riva perché si vedevano e non si potevano toccare perché quella distanza vuota tra lui e le cose perché le pigne che erano una cosa con lui nei suoi occhi erano invece là distanti però se puntava il fucile la distanza vuota si capiva che era un trucco lui toccava il grilletto e nello stesso momento la pigna cascava troncata al picciolo era un senso di vuoto come una carezza quel vuoto della canna del fucile che continuava attraverso l'aria e si riempiva con lo sparo fin laggiù alla pigna allo scogliattolo alla pietra bianca al fiore di papavero questo non ne sbaglia una dicevano gli uomini e nessuno aveva il coraggio di ridere tu vieni con noi disse il capo e voi mi date il fucile rispose il ragazzo ben si sa andò con loro partì con un tascapane pieno di mele e due forme di cascio il paese era una macchia d'ardesi a paglia e sterco vaccino in fondo alla valle andare via era bello perché a ogni svolta si vedevano cose nuove alberi con pigne uccelli che volavano dai rami licheni sulle pietre tutte cose nel raggio delle distanze finte delle distanze che lo sparo riempiva inghiottendo l'aria in mezzo non si poteva sparare però glielo dissero erano posti da passarci in silenzio e le cartucce servivano per la guerra ma a un certo punto un leprotto spaventato dai passi traversò il sentiero in mezzo a loro urlare e armeggiare stava già per scomparire nei cespugli quando lo fermò una botta del ragazzo buon colpo disse anche il capo però qui non siamo a caccia vedessi anche un fagiano non devi più sparare non era passata un'ora che nella fila si sentirono altri spari e il ragazzo di nuovo si infuriò il capo e andò a raggiungerlo lui rideva con la sua faccia bianca e rossa a mela pernici disse mostrandole se n'era alzato un volo da una siepe pernici o grilli te l'avevo detto dammi il fucile e se mi fa imbestialire ancora torni al paese il ragazzo fece un po' il broncio a camminare disarmato non c'era gusto ma finché era con loro poteva sperare di riavere il fucile la notte dormirono in una baita da pastori il ragazzo si svegliò appena il cielo schiariva mentre gli altri dormivano prese il loro fucile più bello riempì il cascapane di caricatori e uscì c'era un'aria timida e tersa da mattina presto poco discosto dal casolare c'era un gelso era l'ora in cui arrivavano le ghiandaie eccone una sparò corse a raccoglierla e la mise nel cascapane senza muoversi dal punto dove l'aveva raccolta cercò un altro bersaglio un ghiro spaventato dallo sparo correva a rintanarsi in cima ad un castagno morto era un grosso topo con la coda grigia che perdeva ciuffi di pelo a toccarla da sotto il castagno vide in un prato più basso un fungo rosso coi punti bianchi verenoso lo sbriciolò con una fucilata poi andò a vedere se proprio l'aveva preso era un bel gioco andare così da un bersaglio all'altro forse si poteva fare il giro del mondo vide una grossa lubaca su una pietra mirò il guscio e raggiunto il luogo non vide che la pietra scheggiata e un po' di bava iridata così si era allontanato dalla baita giù per prati sconosciuti dalla pietra vide una lucertola su un muro dal muro una pozzanghera e una rana dalla pozzanghera un cartello sulla strada bersaglio facile dal cartello si vedeva la strada che faceva zig zag e sotto sotto c'erano degli uomini in divisa che avanzavano ad armi spianate all'apparire del ragazzo col fucile che sorrideva con quella faccia bianca e rossa a mela gridarono e gli puntarono le armi addosso ma il ragazzo aveva già visto dei bottoni d'oro sul petto di uno di quelli e fatto fuoco mirando a un bottone sentì l'urro dell'uomo e gli spari a raffiche o isolati che gli fischiavano sopra la testa era già steso a terra dietro un mucchio di pietrame sul ciglio della strada in angolo morto poteva anche muoversi perché il mucchio era lungo far capolino da una parte inaspettata vedere i lampi alla bocca delle armi dei soldati il grigio e il lustro delle loro divise tirare a un gallone una mostrina poi a terra e lesto a strisciare da un'altra parte a far fuoco dopo un po' sentì raffiche alle sue spalle ma che lo sopravanzavano e colpivano i soldati erano i compagni che venivano di rinforzo coi mitragliatori se il ragazzo non ci svegliava coi suoi spari dicevano il ragazzo coperto dal tiro dei compagni poteva mirare meglio ad un tratto un proiettile gli sfiorò una guancia si voltò un soldato aveva raggiunto la strada sopra di lui si buttò in una cunetta al riparo ma intanto aveva fatto fuoco e colpito non il soldato ma di striscio il fucile alla cassa sentì che il soldato non riusciva a ricaricare il fucile e lo buttava in terra allora il ragazzo sbucò e sparò sul soldato che se la dava a gambe gli fece saltare una spallina l'inseguì il soldato ora spariva nel bosco ora riappariva a tiro gli bruciò il cocuzzolo dell'elmo poi un passante della cintura intanto inseguendosi erano arrivati in una valletta sconosciuta dove non si sentiva più il rumore della battaglia a un certo punto il soldato non trovò più bosco davanti a sé ma una radura con intorno di rupi fitti di cespugli ma il ragazzo stava già per uscire dal bosco in mezzo alla radura c'era una grossa pietra il soldato fece appena in tempo a rimpiattarcesi dietro rannicchiato con la testa tra i ginocchi là per ora si sentiva al sicuro aveva delle bombe a mano con sé e il ragazzo non poteva avvicinarglisi ma solo fargli la guardia a tiro di fucile che non scappasse certo se avesse potuto con un salto raggiungere i cespugli sarebbe stato sicuro scivolando per il pendio fitto ma c'era quel tratto nudo da traversare fin quando sarebbe rimasto lì il ragazzo e non avrebbe mai smesso di tenere l'arma puntata il soldato decise di fare una prova mise l'elmo sulla punta della baionetta e gli fece far capolino fuori dalla pietra uno sparo e l'elmo rotolò per terra sforacchiato il soldato non si perse d'animo certo mirare lì intorno alla pietra era facile ma se lui si muoveva rapidamente sarebbe stato impossibile prenderlo in quella un uccello attraversò il cielo veloce come un galletto di marzo uno sparo e cadde il soldato si asciugò il sudore dal collo passò un altro uccello una tordella cadde anche quello il soldato inghiottiva saliva doveva essere un posto di passo quello continuavano a volare uccelli tutti diversi e quel ragazzo a sparare e a farli cadere al soldato venne un'idea se lui sta attento agli uccelli non sta attento a me appena tira io mi butto ma forse prima era meglio fare una prova raccattò l'elmo e lo tenne pronto in cima alla baionetta passarono due uccelli insieme stavolta beccaccini al soldato rincresceva sprecare un'occasione così bella per la prova ma non si azzardava ancora il ragazzo tirò un beccaccino allora il soldato sporse l'elmo sentì lo sparo e vide l'elmo saltare per aria ora il soldato sentiva un sapore di piombo in bocca s'accorse appena che anche l'altro uccello cadeva a un nuovo sparo pure non doveva fare gesti precipitosi era sicuro dietro a quel masso con le sue bombe a mano e perché non provava a raggiungere il ragazzo con una bomba portando nascosto si sdraiò schiena a terra allungò il braccio dietro a sé badando a non scoprirsi radunò le forze e lanciò la bomba un bel tiro sarebbe andata lontano però a metà della parabola una fucilata la fece esplodere in aria il soldato si buttò faccia a terra perché non gli arrivassero schegge quando rialzò il capo era venuto il corvo c'era nel cielo sopra di lui un uccello nero che volava a giri lenti un corvo forse adesso certo il ragazzo gli avrebbe sparato ma lo sparo tardava a farsi sentire forse il corvo era troppo alto eppure ne aveva colpito di più alti e veloci alla fine una fucilata adesso il corvo sarebbe caduto no, continuava a girare lento impassibile cadde una pigna invece da un pino lì vicino si metteva a tirare le pigne adesso a una a una colpiva le pigne che cascavano con una botta secca a ogni sparo il soldato guardava il corvo cadeva? no, l'uccello nero girava sempre più basso sopra di lui possibile che il ragazzo non lo vedesse forse il corvo non esisteva era una sua allucinazione forse chi sta per morire vede passare tutti gli uccelli quando vede il corvo vuol dire che è l'ora pure bisognava avvertire il ragazzo che continuava a sparare alle pigne allora il soldato si alzò in piedi e indicando l'uccello nero col dito là c'è il corvo gridò nella sua lingua il proiettile lo prese giusto in mezzo a un'aquila d'ali spiegate che aveva ricamata sulla giubba il corvo s'abbassava lentamente a giri grazie a tutti